Certo il passato ci insegue, abbiamo l'onda lunga di un passato sbagliato, una programmazione in parte errata perché è destinata soprattutto alle grandi opere, non a quelle cose che si possono spendere immediatamente, ma anche di una programmazione fortemente in ritardo. Noi abbiamo trovato in 5 anni solo l'8%, insomma è un dato aberrante questo che collocava la Sicilia l'ultima d'Europa. In un anno abbiamo fatto più dei 5 anni precedenti e abbiamo collocato la Sicilia in testa fra le regioni italiane per le migliori performance nel 2013. Quindi è chiaro che noi abbiamo i ritardi precedenti, però è anche vero che stiamo lavorando intensamente per realizzare tutto quello che sarebbe dovuto fare prima e stiamo mettendo persino sotto stress i dirigenti. Piccole e medie opere invece di grandi opere che non si concludono mai, quindi di opere che possono andare semplicemente in gara, traducendosi immediatamente in cantiere e lavori che fanno lavorare soprattutto poi l'inventoria siciliana perché nei grandi investimenti lavorano solo le grandi multinazionali, invece nei piccole e medie opere c'è una concorrenzialità anche delle imprese siciliane. Per quanto riguarda i settori è chiaro che dovranno essere i settori per esempio della prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico, ma non solo la prevenzione ma anche le opere di consolidamento per evitare, quindi un grande impegno deve essere fatto in questo campo. Ci deve essere un impegno notevole per esempio nel settore del bene culturale come elemento di valorizzazione, nel settore del turismo, della pesca, dell'agricoltura, ma anche per esempio nel settore dell'energia, patto dei sintesi, le politiche del credito attraverso fonti di rotazione che possono favorire e di garanzia che possono favorire l'accesso a credito a pacche delle imprese, ma anche solidarietà sociale, quindi politiche del lavoro ma anche politiche di coesione sociale, perché non è che noi possiamo pensare che uno rimane fuori dalla fabbrica perché l'hanno licenziato e resta senza soldi, però dobbiamo anche pensare insieme a quelli che il lavoro lo perdono, dobbiamo anche pensare a quelli che il lavoro non ce l'hanno avuto mai o che sono completamente disoccupati o che sono sotto la soglia di sopravvivenza, lì dobbiamo pensare a forme vicine, al reddito di solidarietà, di cittadinanza, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, però sicuramente dobbiamo aiutare quelli che non hanno un soldo. Il piano delle partecipate è in corso di esecuzione, abbiamo già costituito l'ufficio speciale per le liquidazioni, è chiaro che le partecipate vanno analizzate una a uno perché ognuna ha problematiche diverse, ci sono quelle che possono funzionare e bene, ci possono essere quelle che possono essere addirittura un attivo e un risparmio per la pubblica amministrazione, ci sono quelle che non funzionano e che vanno chiuse. È chiaro che la questione del personale vanno affrontate ad una a uno perché hanno anche, fra l'altro, collocazioni giuridiche diverse e vanno viste all'interno delle possibilità delle leggi, però noi dobbiamo fare in modo di evitare anche lì che si faccia macelleria sociale. Perché non ha spesso i fondi? No, non ci sono assessorati che hanno spesso i fondi, gli assessorati hanno spesso tutti i fondi, ci sono quelli che spendono di più e quelli che spendono di meno, ci sono quelli che avevano nella loro programmazione obiettivi non facilmente più raggiungibili e altri meno raggiungibili oppure su quali si sono impegnati di più o di meno. Ci sono quelli che la cui programmazione dipende da quello che fanno i comuni, gli enti locali, anche lì dobbiamo cominciare a intravedere delle possibilità concrete, ma non è che possiamo ammettere però che a un certo punto fonti che non si spendono vengono riprese da Bruxelles. Noi faremo la verifica breve, laddove non si spende o si è in ritardo sui programmi vuol dire che quei fonti si destinano a obiettivi realizzabili immediatamente perché questo si mostra utile per la Sicilia e invece di fare ritornare a Bruxelles i soldi li lasciamo qui. Due miliardi ancora da spendere entro il 2015? Due miliardi e mezzo dei quattro miliardi e tre al 31 ottobre 2012 848 milioni di euro in 61 mesi, nei 37 mesi successivi il resto da fare, una cifra da far tremare le vene ai polsi dagli 848 milioni di euro all'ottobre 2012 si è passati al miliardo 639, circa 792 milioni di euro in più in 13 mesi, di questi 446 soltanto da giugno 2013 a dicembre 2013. È la prova che si può fare, serve uno sforzo di tutti, uno sforzo straordinario, nei primi cinque mesi del 2014 sono stati fatti 128 milioni di euro, siamo la seconda regione in Italia dopo la Puglia che ne ha fatti 185 nei primi cinque mesi del 2013. Non basta sforzo ovviamente perché i due miliardi e mezzo che ancora sono davanti a noi sono una cifra davvero significativa e se ogni dipartimento regionale centro di responsabilità, se ogni ente locale, se ogni beneficiario non metterà una straordinaria forza e azione nell'attuazione delle misure correttive che sono state poste in essere dal Dipartimento programmazione per mettere in salvaguardia quel miliardo di euro che è stato valutato come in due diligence, come il rischio che ad agosto 2013 la Regione ha valutato e io ho valutato essere al 31 dicembre 2015 potenzialmente di risorse da perdere. Se quelle misure correttive non saranno attuate puntualmente da parte di chi ha il potere della spesa, il dovere della spesa, i dipartimenti regionali da una parte ma gli enti locali e i beneficiari dall'altra parte, questo sforzo potrebbe essere vano. Però per evitare lo sforzo vano la Regione che cosa metterà in campo? Insomma non si vengono sanzioni per quegli enti locali, per quei comuni che non riescono a fare una programmazione? Questo è il tempo di realizzare, la valutazione che la politica ha in corso rispetto ai meccanismi sanzionatori sarà attenzionata nei prossimi mesi anche nell'attuazione e nelle previsioni del programma 14-20. È logico che nessuno di noi potrà sentirsi esente da responsabilità perché siamo chiamati ognuno di noi a realizzare un obiettivo che si può realizzare se ognuno fa ogni giorno il proprio dovere e non aspetta che il foglio di carta che ha sulla propria scrivania sia spostato dalla propria per dire che ha risolto il problema. Per la prossima programmazione, quindi quella 2014-2020, alla Sicilia cosa andrà e che cosa si aspetterà per la Sicilia? Ma la Sicilia secondo me deve cogliere dalla programmazione 14-20 un primo vincolo opportunità che la Commissione da qualche settimana ha messo in campo. Il vero dato che è misurato e non soltanto in Italia e non soltanto in Sicilia è quello di un sistema amministrativo a tutti i livelli che ha bisogno di una registrazione. Un piano di rafforzamento amministrativo prima ancora della nostra capacità di programmazione è uno dei momenti secondo me più qualificanti della prossima programmazione che vede nelle imprese, nella ricerca, nell'innovazione e per la prima volta nel contrasto alle povertà, alla lotta, al disagio sociale, gli assi principali dell'azione. Il 22 luglio le Regioni dovranno presentare? Il programma operativo 2014-2020. La giorno 4 giugno è stato riattivato il percorso con il partenariato economico-sociale chiedendo un contributo di merito e avendo aperto per la prima volta nella programmazione dei fondi una consultazione pubblica che riguarda il singolo cittadino che oggi può, attraverso PENFES, attraverso il sito del Dipartimento di Programmazione realizzato in collaborazione col Formez, dare il proprio contributo sul quale saremo chiamati a dare una risposta precisa in termini di accoglimento della proposta che non può essere del singolo cittadino ma anche di gruppi e associazioni e territori. Le risorse che spetteranno alla Sicilia? Le risorse che spetteranno alla Sicilia saranno più o meno quelle che abbiamo avuto nel precedente per la programmazione. Al momento il dato certo sono i 4 miliardi e 31 milioni di euro del fondo strutturale, dei due fondi strutturali, FESDRE e Fondo Sociale, che sono sostanzialmente gli stessi. Adesso bisognerà valutare la quota di cofinanziamento e questo è complessivo e questo sarà fortemente connesso alla prospettiva che possa essere ridotto davvero l'impatto del patto di stabilità, scusate il bisticcio di parole, sulla utilizzazione di queste risorse.